Presidente, durante la quattordicesima, quindicesima e sedicesima legislatura, il senatore della Repubblica è stato un certo Marcello Dell'Utri, condannato per associazione esterna a Cosa Nostra, mafiosa, in quanto, molti non lo sanno, fu l'intermediario tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi tra il 74 e il 92. Nello specifico, presentò a Silvio Berlusconi, in alcuni uffici di Milano, il boss mafioso Stefano Bontate, che venne arrestato due settimane dopo, autore della strage di Viale Lazio, il capo dei capi allora, prima che venne ucciso da Totorrine e dai Corleonesi, il quale garantì protezione alla famiglia Berlusconi in cambio di cospicue somme di denaro. Per quello inviarono Vittorio Mangano a Palazzo, su a Milano, per occuparsi, si dice, dei cavalli. Borsellino diceva che quando si tratta di cavalli si tratta di droga. Gli omertosi, il PD li chiama compagni G, voi li chiamate eroi, voi guardate la pagliuzza al posto della trave e oggi la trave per il Partito Democratico si chiama Denis Berdini. Grazie, Presidente.